Ciao, io sono Ale. Benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Questa sera sono qui per fare un nuovo video con la luce soffusa perché spesso, spesso, mi chiede di riportare un video di questa tipologia, quindi c'è meno luce che mi illumina e che illumina lo sfondo. Ma in questo caso ho voluto un po' rinnovare il tutto perché oltre ad avere una luce sul viso, una luce calda, ho messo anche sullo sfondo, dietro di me, una luce molto dura, molto dura, molto dura, molto dura. di noi però penso che comunque vestiamo tutto lì e aiuti anche a rilassare, 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 rilassare maggiormente visto che quello azzurro è uno dei colori per eccellenza della relax e questa sera andrò a fare un po' di carezza al viso così, un po' di head movements delicati e poi sussurrerò alle due orecchie molto molto vicine così a superare lo zappo con questo intenso e speri che è nulla, quindi spero di farti rilassare allora ti consiglio come prima cosa, come prima cosa di metterti in una posizione comoda, in un luogo tranquillo quello che preferisci che ti permetta di rilassarti al miglio e appunto trovi una posizione comoda concentrati, concentrati, concentrati sui pensieri positivi e e appare un piccolo giochetto utile che sta nella pensare, pensare, pensare molto attento attentamente a ciò di cui si è gradi, quindi appunto pensa a delmeno una cosa che ti fa sentire bene per la quale tu sei felice ad esempio, cioè non deve essere una cosa estremamente, come dire, strana o esageratamente grande ok anche se ad esempio non lo so di ancora affrontare degli esami o del lavoro un po' complesco delle procedure che ti preoccupano puoi tranquillamente puoi tranquillamente pensare a ciò che hai fatto finora e puoi assolutamente essere grato, grato per tutto ciò che hai fatto per calcare un peggio che ci hai sempre messo per tutto ciò che per esserti per aver deciso anzi di prendere un po' di tempo per te Infatti ora sei qui a guardare questo video e immagino proprio che lo stai facendo per te. Quindi si è contenta per avere la possibilità di dedicare a te stesso un momento di relax e di focalizzazione solo sui mesi positivi. Perché appunto questo è un aspetto molto importante che spesso viene sottovalutato purtroppo e viene preso un po' alla leggera. E' come se prendere i conti di se stessi non fosse una priorità, come se non fosse una cosa importante. Ma siccome tu appunto ti stai prendendo cura di te guardando questo video, ascoltando questo video, puoi essere assolutamente felice di questo. Come puoi essere felice di avere appena concluso una giornata nella quale sicuramente, sicuramente, sicuramente hai fatto qualcosa di utile. E ti puoi sentire contento e non comunque un disfatto di ciò che hai fatto. Poi è chiaro che tutti i giorni sono uguali, magari non può essere che non ti senti così per l'ultimo giorno. Però chiaramente ciò che è importante è il peso positivo. Se partì dal presupposto che riuscirai a portare a termine ciò che vuoi, riuscirai a perseguire e ad ottenere i tuoi obiettivi, a realizzare i tuoi desideri, sicuramente, sicuramente avrai una mano c'è in più con cui andare avanti e questo ti terrà non poco. Infatti è proprio per questo che bisogna sempre vedere il visero, c'è avere un visero positivo, di vedere la situazione nella maniera più serena possibile, perché, come magari dico spesso, nei video è importante di essere positivi e avere pensieri positivi, però chiaramente la... cioè ciò che magari non potesse avere può sembrare un po' una frase già fatta ma è un po' un po' un po' un po' un po' un po' proprio per l'attività di SMR. perché in realtà i GPSI sono veramente fondamentali e funzionano anche nella vita reale perché appunto sono sicuro che quando inizi a fare una cosa con il video giusto, con il sorriso sul volto riuscirai ad andare avanti e a terminare in maniera assolutamente migliore di quando invece inizi e continui con un cosiddetto mindset sbagliato che è assolutamente negativo, che non ti potrà portare a nulla di buono quando continuando a disinfacinare una situazione poco irradevole continuando a pensare che tutto andrà male purtroppo rischi che poi vada a finire davvero così se invece mantieni la calma e cerchi di essere assolutamente felice e soddisfatta non ti sentire davvero ciò che hai fatto fino a quel momento, in questo caso fino ad ora e cerchi di sentirti assolutamente all'altezza di ciò che devi fare perché io sono pronti a svolgere e a, vuol dire, a raffrontare quello che ti aspetta sicuramente, ma proprio sicuro, 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 sicuro. non avrai nessun tipo di problema a farlo e la bella che una volta che avrai raggiunto l'obiettivo ti sentirai ancora più felice e piena di energia per affrontarle di nuovi cosa che invece non succede se magari ti riesco a questa sensazione di cattiva e questo senso di preoccupazione che è normalissimo ci sia ma, appunto, non devi sovrastare tutti i tuoi pensieri all'altezza, ecco, deve esserci chiaramente un po' di preoccupazione, altrimenti, sì, come dire, sarebbe naturale e non avere un minimo di preoccupazione, assolutamente tuttavia non è quella che deve averla meglio la preoccupazione c'è ma è piccola 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 in questo modo non ti potrà assolutamente fermare e poi e poi appunto bruciarlo tutto in maniera più naturale e andrà tutto il meglio ho voluto ho voluto fare questa parte prettamente motivazionale perché non lo so di questo tipo il bisogno sia per aiutarti sia per aiutarti sia per aiutare anche un po' me devo dirlo perché chiaramente sono umano e ogni umano anche io ho spesso delle preoccupazioni che sono un po' esagerate che occupano gran parte della mia mente tuttavia 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 ho capito quando sia fondamentale oltre che delle circostanze favorevoli soprattutto la nostra mente e dobbiamo agire e noi noi stessi siamo gli unici gli unici gli unici capaci di migliorare la nostra situazione mentale e alleviare 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 le sensazioni negative o poco credevoli per far arrivare tanta voglia di fare felicità che sotto un certo punto di vista una spensieratezza consapevoli che stiamo facendo del nostro meglio per affrontare il presente possiamo essere spensierati perché sappiamo che se continueremo ad avere questi pensieri positivi e a progredire al meglio siamo sicuri anche che l'esito finale non potrà che essere positivo quindi tranquilli 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 e non dobbiamo, non dobbiamo per alcun motivo, per alcun motivo, per alcun motivo scoraggiarci e perdere questo mindset positivo perché, tenete, tenete, nessuno potrà andare ad influire su questa sensazione che si creerà nella nostra mente su questo stato di pace e serenità. E quindi noi vi metteremo gli unici capaci di andare a scegliere come vivere ora e di conseguenza come vivere la nostra vita perché troppo spesso ci fermiamo a pensare al passato, a cosa potremmo cambiare, a cosa abbiamo sbagliato, oppure andiamo al futuro direttamente pensando a cosa potremmo fare, a come possiamo fare sì che una cosa vada in un determinato modo. ma purtroppo per come siamo fatti spesso ci dimentichiamo di pensare, di occuparci semplicemente del presente perché in effetti è in realtà la cosa più importante perché se facciamo ciò che vogliamo, se ci impegniamo nel presente riusciremo ad avere migliori risultati nel futuro e non ripingeremo al passato, se invece noi pensiamo al passato, pensiamo al futuro intanto tra un pensiero e l'altro ci perdiamo, ci perdiamo un occhio d'acqua e non agiamo, non agiamo ora, qui e giù ora, nel presente rischiamo appunto di svolgere alcuni compiti in maniera sbagliata o comunque come non volevamo e di cosenza potrebbe anche verificarsi una sensazione di sconforto futuro e una sensazione, un momento in cui sentiamo proprio di aver sbagliato, di aver commesso questo errore di pensare sempre tutto negativo e di non concentrarci sul presente e quindi di ripiangere le scelte passate, le scelte sbagliate che abbiamo fatto per questo ti consiglio di cuore e quindi di iniziare ora, in questo momento, a cambiare il tuo modo di pensare a riempire di sensazioni, sensazioni, sensazioni positive e a non preoccuparti per il tuo futuro ma piuttosto per il presente perché se inizi ad impegnarti ora per quello che concerne l'oggi sicuramente riuscirai ad affrontare meglio anche il domani che il tempo domani si fia detto questo spero che il mio whispering ti abbia fatto rilassare e che questi minuti motivazionali ti abbiano davvero fatto riflettere ben motivato appunto per andare avanti e continuare la tua vita al meglio e ora ti auguro la buonanotte 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 Grazie a tutti